Il CEO della banca UBS non sa che le banche private creino denaro, oppure fa finta di non saperlo, in entrambi i casi è grave. Egli sostiene che per la concessione di crediti vengono utilizzati i soldi dei depositi a risparmio. Ciò non è corretto ed è scientificamente insostenibile. Segue il dibattito tra il professore di macroeconomia ed economia monetaria Sergio Rossi e il CEO di UBS Sergio Armotti. Ma dove pensa che vadano a prendere le banche i soldi per fare i prestiti e per fare i crediti? Non hanno bisogno di avere risparmi le banche per dare i crediti. E dove vanno a prendere i soldi? Li emettono, creano dal nulla. Dal nulla? Come mostra l'iniziativa moneta intera su cui saremo chiamati a votare forse già quest'anno. Le banche danno prestiti e poi raccolgono i depositi. Sì, ma devono avere dei depositi per poter prendere e fare prestiti. Non possono prestare soldi senza avere... Logicamente il primo deposito da dove viene secondo lei? Dai clienti che ci affidano i loro risparmi. I risparmi come nascono? Cosa c'entra? Occorre produrre un reddito, no? Certo, ma lei sta dicendo... Il reddito è prodotto grazie al credito che le banche danno alle imprese. Limitiamoci a rispondere al punto che la sta sollevando. Se le banche non fanno credito alle imprese, non si crea reddito, non ci sono depositi nuovi. Vuole che le spiego come funziona la banca o vuole spiegarmelo lei? Cioè, se vuole, guardi, le dico, per fare un credito la banca deve avere dei depositi, ok? Deve avere dei depositi. Certo che deve avere dei depositi. Scusi, signor Armotti, se io vado nella sua banca... Il CEO di UBS, Sergio Armotti, nega ciò che in realtà è incontestabile. Come invece asseriscono diverse importanti banche centrali, tra cui le tre che elenchiamo a titolo di esempio di seguito. La Banca Nazionale Svizzera. Oggigiorno, la moneta scritturale, di cui gran parte è creata dalle banche commerciali, concedendo crediti alle aziende e alle famiglie, rappresenta quasi il 90% dei franchi svizzeri. Anche la Deutsche Bundesbank è dello stesso avviso. Effettivamente, con la concessione di crediti da parte di una banca, viene sempre creata nuova moneta scritturale. L'idea molto diffusa che una banca possa intermediare anche denaro vecchio già emesso prima, ad esempio depositi a risparmio, per cui la massa monetaria nell'economia non aumenti, non è corretta. E infine, pure la Bank of England conferma quanto dichiarato dalle precedenti due banche centrali. Ogni volta che una banca concede un credito, essa crea simultaneamente un deposito corrispondente sul conto bancario del debitore, creando in tal modo nuovo denaro. O il capo di UBS effettivamente non sa come viene creato il denaro, oppure fa finta di non saperlo, affinché UBS possa continuare a guadagnare illegittimamente miliardi di utili tramite il privilegio della creazione di denaro e affinché l'iniziativa moneta intera venga respinta dal popolo. L'obiettivo dell'iniziativa moneta intera è di attribuire solo alla Banca Nazionale Svizzera il potere di creare denaro, incluso quello scritturale, e di emetterlo esente da debito alla Confederazione, ai cantoni o ai cittadini, a tutto vantaggio della collettività. In tal caso, le banche private non potranno più creare denaro, ma potranno solo agire in veste di intermediari prestando solo denaro che hanno ottenuto dai risparmiatori, da altre banche oppure dalla Banca Nazionale. Se volete saperne di più in merito alla creazione di denaro da parte delle banche private, cliccate qui.